La workstation della Asle di Pescara avrebbe dovuto processare fino a 2400 tamponi al giorno ed invece è quasi ferma. È la denuncia del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli che sulla vicenda ha preparato una interpellanza alla giunta regionale. Lo stesso Blasioli ripercorre la cronistoria del macchinario che, acquistato tramite delibera dello scorso 2 aprile al prezzo di 120 mila euro, avrebbe dovuto potenziare in maniera considerevole le diagnosi dei contagi da covid-19 nella unità operativa complessa di virologia e microbiologia del presidio ospedaliero di Pescara che è anche centro di riferimento individuato dalla regione Abruzzo per la diagnostica virologica da SARS-CoV-2. Dopo un periodo lungo di rodaggio la workstation è entrata in funzione il 21 maggio. È indispensabile capire, fa notare Blasioli, perché usciti dall'emergenza non sia cresciuto il numero di tamponi lavorati dall'unità operativa complessa e perché solo a luglio si sia pubblicato un bando per le forniture dei reagenti che, se fatto per tempo, avrebbe consentito di effettuare una campagna sulla popolazione per capire come procedere. Con una delibera di maggio, prosegue Blasioli, la ASL di Pescara spendeva 550 mila euro per acquistare 20 mila test dalla Open Trons da effettuare, secondo quanto ipotizzato dallo stesso direttore dell'unità operativa complessa Paolo Fazzi, a tappeto sul personale e i soggetti più esposti e sulla comunità. Non è difficile capire che tale quantità fosse sufficiente per un periodo limitato. Inoltre, la ASL ha indetto solo a fine giugno, con la delibera 782 del 26-6-2020, una procedura a evidenza pubblica per la fornitura di sistemi analitici e prodotti per diverse tipologie di esami destinati all'unità operativa complessa. Un atto per i reagenti ma che autorizza anche una proroga per i fornitori attuali in caso l'iter si fosse concluso oltre la scadenza dei contratti. Perché, nonostante da maggio sia aumentata la necessità di effettuare un numero più ampio di tamponi anche in virtù delle convenzioni in essere con la casa di cura Villa Serena e di quelle con la Pescara Calcio, stanti le potenzialità della Workstation, non è parimenti aumentato il numero di tamponi effettuati? Mancavano i reagenti per le varie tipologie di esami? O il personale dell'unità operativa non era sufficiente a garantire i 2400 tamponi ipotizzati? E infine, come ci si regolerà per il futuro? Certo è, conclude Brasioli, che non è possibile perdere tanto tempo e risparmiare risorse sulla prevenzione quando c'è di mezzo la salute della comunità.